Rischiare una denuncia per introdursi in una struttura pubblica e rubare solo un gelato? A quanto pare è possibile, visto che la scuola dell'infanzia Manfrini a Sassonia di Fano è successo anche la notte scorsa. Dopo quattro furti, tutti con magro bottino messi a segno nel giro di pochi mesi, questa mattina l'ennesima brutta sorpresa per gli operatori dell'asilo di Via della Marina. Esasperati anche i genitori che nelle scorse settimane avevano lanciato un appello tramite Fano TV per sollecitare l'amministrazione comunale a prendere dei provvedimenti. Dopo qualche giorno l'assessore ai servizi educativi, Samuele Mascarin, aveva incontrato le famiglie promettendo lavori di rafforzamento degli infissi in tutto l'immobile. Operazioni iniziate, ahimè, solo questa mattina. Qui la gente continua a entrare e a fare i suoi comodi all'interno della struttura. Quindi ribadita la necessità anche di installare un sistema di videosorveglianza? Soprattutto, io penso che quello sia necessario perché è una cosa importantissima. A questo punto anche per l'autorità stessa è capire, vedono tutto, abbiamo una dimostrazione. Fortunatamente siamo molto unite come mamme e quindi cerchiamo ognuna a modo suo insieme quello che possiamo, cerchiamo di fare per i nostri bambini. Quindi ovviamente cercare di ottenere più sicurezza. Certo, questa è la cosa principale, sicurezza e soprattutto l'igiene perché è una cosa impensabile che gente entra, non si sa che gente sia e può toccare e mangiare i cuscini dove i bambini fanno attività motoria, non è possibile. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Fano, coordinati da Stefano Seretti che però non hanno trovato segni di scasso né alla porta d'ingresso né alle finestre. Che il malvivente fosse già dentro potrebbe essere una delle ipotesi. Intanto all'assessore Mascarin viene il sospetto che si tratti di un vero e proprio accanimento nei confronti di questa scuola, l'unica presa di mira negli ultimi periodi sulle 40 presenti in città. Dispiace rilevare che è bastato annunciare ieri a una radio il fatto che questa mattina ci sarebbero stati gli operai del comune al Manfrini per ritrovarsi questa notte un'effrazione che tra l'altro ha un sapore quasi simbolico perché sono entrati solo nella cucina, hanno mangiato un gelato e se ne sono andati. Lascia veramente pensare purtroppo che si tratti insomma di una sfida di qualche buon tempone che però chiaramente non fa ridere nessuno perché si tratta di una scuola dell'infanzia e quindi ovviamente si attiva poi un allarme anche giustificato da parte degli utenti, delle famiglie e anche da parte nostra che ovviamente questa mattina abbiamo fatto immediatamente denuncio ai carabinieri, abbiamo fatto partire il protocollo classico per la sanificazione dei locali che è stato interessato dall'intrusione e abbiamo anche come avevamo preso impegno per una questione di correttezza oltre che di trasparenza anche messo una comunicazione all'ingresso della scuola per avvisare ovviamente di quello che era accaduto e delle azioni che si era proceduto a mettere in campo proprio per garantire la pulizia, l'igiene e la sicurezza. Quando avremo dopo il bilancio un quadro finanziario diciamo più agevole per l'ente io ribadisco l'impegno a fare la richiesta per una videosorveglianza anche come elemento di deterrenza tenuto conto soprattutto che appunto le caratteristiche di queste frazioni ormai lasciano pensare all'ipotesi che descrivevo.